Un mese ad alta intensità sportiva attende la Val Malenco, sempre più terra dedita al turismo sportivo. Dal 10 al 12 marzo, sulle nevi dell'Alpe Palù, dove il freestyle ski mondiale è ormai di casa, si terrà la Coppa del Mondo Freestyle Ski, con le prove sulle gobbe innevate. Gli atleti top di 10 nazioni daranno vita a spettacolari giorni di gare che introducono ai mondiali junior di fine marzo. Dopo la prova olimpica di Pechino, la Coppa del Mondo arriverà a Chiesa Val Malenco con la iconica specialità del Dual Moguls, tra coreografiche e spettacolari discese sulle gobbe innevate della pista del Dosso all'Alpe Palù. Siamo pronti, dice Roberto Pinna, si stanno effettuando i lavori di rifinitura per ospitare al meglio questi eventi. Tutto ciò, reso possibile anche dal supporto dei molti partner del territorio, primo fra tutti la banca del territorio Creval Credita Gricol, sempre tra i primi a supportare il territorio quando si tratta di sport. Nel cuore dell'arena naturale della schiarea della Val Malenco al Pepalù, la gara esalterà anche agli occhi del pubblico l'impatto spettacolare dell'evento, prosegue Pinna, grazie alla perfetta visibilità garantita sia dalla conformazione dell'ampia zona, sia dalla vicinanza di rifugi e solarium, da cui assistere con ogni comfort alla competizione. Sono 10 le nazioni accreditate ad oggi per oltre 50 atleti, molti dei quali ai cancelletti di partenza dopo la loro apparizione alle ultime Olimpiadi invernali. Lo spettacolo sarà assicurato dai top della finale olimpica, dal canadese Michael Kingsbury fino allo statunitense Nick Page. Per questo ritorno della Coppa del Mondo Freestyle Ski, la Val Malenco riconferma ormai l'esclusivo diritto del ristretto club di località che ospitano le gare della specialità al di fuori dei paesi scandinavi, dove il Freestyle Ski Moguls è una disciplina popolare e seguitissima. L'appuntamento segna un ulteriore passo di avvicinamento verso il Mondiale Junior Freestyle Ski e di Snowboard, che sempre sulle nevi malenche, dal 22 marzo al 2 aprile, metterà in palio i titoli ridati Junior ma soprattutto metterà in luce i possibili atleti che si sfideranno alle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026.